Giulia De Lellis, le prime parole dopo il Grande Fratello Vip Giulia De Lellis e il ringraziamento ufficiale dopo il Grande Fratello Vip. Giulia De Lellis dopo il Grande Fratello Vip ha scelto di ringraziare tutti i suoi fan, ma anche Andrea Damante. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha parlato, per la prima volta dopo la conclusione del reality, attraverso Twitter. Giulia non ha vinto la seconda edizione del programma e tante sono le polemiche nate sui social. La De Lellis è uscita dal reality come quarta finalista, perdendo al televoto contro Daniele Bossari. Tanti sono i fan che hanno votato per quasi tre mesi per farla arrivare sino alla vittoria. . Eppure, Giulia non sarebbe riuscita a superare il percorso effettuato dal vincitore. Infatti, quest'ultimo si è rivelato a tutti, mostrando la sua rinascita. . Si tratta comunque di una grande vittoria quella dell'Ellis. . Tanti sono i personaggi noti nel mondo dello spettacolo che si sono ricreduti su Giulia, attraverso questa esperienza. . Tra questi troviamo anche Carina Cascella e Belen Rodriguez, oltre Francesco Monte. . Ora Giulia ha deciso di parlare a tutti, facendo un ringraziamento generale. . . Le prime parole di Giulia dell'Ellis per i fan e per Andrea Damante. . Ringrazio tutti per avermi sostenuta. . . Non ci sono parole per dirvi il bene che vi voglio e per ringraziarvi. . In questo modo Giulia ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine durante questo percorso. . Milioni di persone l'hanno appoggiata e sostenuta fino all'ultimo secondo. . . Ma un ringraziamento più importante va ad Andrea Damante. . La dell'Ellis ha condiviso una foto del loro incontro in studio durante la finale. . 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 Giulia Delellis perde contro Daniele Bossari al Grande Fratello Vip. Giulia, nonostante non abbia conquistato la vittoria, appare comunque felice e sereno per il risultato ottenuto. La Delellis è stata sconfitta da Bossari, che ha trionfato. I due non sono riusciti a instaurare un rapporto di amicizia. Nonostante ciò, Daniele e Giulia sono stati sicuramente i concorrenti più forti di questa edizione.